Il comune di Ascoli è pronto a introdurre la cosiddetta zona 30, ovvero il limite di velocità pari a 30 km orari, ma solo in alcune zone. In particolare la novità riguarderà i tratti stradali antistanti le scuole. Il Piciano dunque si distinguerà da quanto avvenuto negli ultimi giorni a Bologna il primo grande comune italiano a prendere la decisione di istituire su circa il 70% del territorio cittadino, il limite dei 30 km orari, seguendo l'esempio di alcune città europee. Non ci sarà quindi una norma valida per tutta l'area cittadina. L'attenzione ad Ascoli sarà infatti rivolta a quelle aree dove è più intensa la presenza di bambini. Si può ipotizzare quindi una zona 30 nei pressi delle scuole o anche vicino ai parchi pubblici. Una decisione questa accolta di buon grado dalla stragrande maggioranza della popolazione, come confermano le interviste raccolte da Luigi Miozzi. Si parla tanto di zona 30, istituzioni della zona 30 vicino alle scuole, che cosa ne pensi? D'accordissimo, al 100%, bravo Marco. È un provvedimento che ritiene? Giustissimo. Invece allargato a tutto il centro magari come è successo a Bologna? Magari no, magari no, un po' troppo. Tra 50 e 30, 30 per le scuole, del resto 50. Penso sì, sono d'accordo perché comunque sì, almeno rende tutto un ambiente più tranquillo per i bambini, i ragazzi, un'andatura più lenta è meglio. Soprattutto è più sicura. Esatto, più sicurezza per tutti. Nelle altre parti della città invece cosa ne pensa? Penso di là magari di aspettare per il momento e per ora solo intorno alle scuole. Sicuramente vicino alle scuole penso che sia giusto. Per il resto non lo so, perché non so quale altra zona per il 30 km l'ora. Io per le scuole sono d'accordo. L'obiettivo che il Comune intende raggiungere attraverso le zone 30, oltre che salvaguardare l'incolumità dei pedoni e nella fattispecie soprattutto degli studenti, è anche prevenire gli incidenti stradali e ridurre, seppur in minima parte, le emissioni di CO2.